Ciao ragazzi, bentornati alle nostre video lezioni. Questa è la terza e ultima lezione che dobbiamo affrontare per quanto riguarda il periodo dell'arte ellenistica. Breve e brevissimo riassunto che ho fatto già anche nella lezione scorsa. L'elenismo è quel periodo dell'arte greca che va dal momento della morte di Alessandro Magno alla totale conquista dei regni creati da Alessandro Magno da parte dei Romani nel 31 a.C. Sono quindi tre secoli durante i quali l'assetto politico e la produzione artistica del periodo che noi chiamiamo greco cambia completamente. Perché? Perché cambia il modo di vivere, cambia la cultura, si allargano i confini in cui la cultura greca si espande. Grazie all'opera di Alessandro Magno, il mondo greco apre le sue frontiere e viene esportato in tutti i territori che vengono conquistati da Alessandro Magno. Cosa si crea quindi? Si crea quindi una sorta di mescolanza, di uniformità culturale. Questa mescolanza si chiama koine greca, ovvero tutti i paesi conquistati da Alessandro Magno e poi governati dai suoi successori vengono uniformati e amalgamati a livello culturale e l'ingrediente principale, quello che condisce tutto, è la cultura greca nei suoi vari aspetti. Nell'aspetto politico, nell'aspetto linguistico, nell'aspetto culturale come filosofia, come poesia, ma anche come rappresentazione artistica. Questa mescolanza comunque non è priva di conseguenze. Cosa succede? Il fatto che venga innestata la cultura artistica greca in paesi che già hanno una loro base culturale crea questa unione e commistione che fa generare una rappresentazione artistica che non è tale quale a quella di partenza, ma che è mescolata e unita con le varie culture che si trovano localmente. Per questo si dice che la rappresentazione artistica greca in questo periodo cambia, anche perché i centri di produzione non sono più quelli propri della Grecia, pensiamo a Atene, pensiamo a altre città della Grecia, ma si espandono quando si parla di Alessandria, di Rodi, di Delo, sono comunque altre produzioni, Pergamo per esempio, altre città, altri stati. Per cui abbiamo detto che in questo periodo dobbiamo concentrarci su diverse novità nella rappresentazione artistica. Abbiamo visto l'introduzione dei ritratti. Se nel periodo classico la statuaria rappresentava non persone specifiche, ma delle tipologie, quindi il guerriero, lo sportivo, la divinità, eccetera, eccetera, adesso cominciamo a avere delle persone in carne ed ossa, gente riconoscibile. E ci sono da una parte i ritratti dinastici, i ritratti dei sovrani, pensiamo al caso di Alessandro Magno, ritratti che vengono realizzati a mezzo busto o tutti interi, comunque viene creata una fisionomia e viene diffusa in tutti i territori di influenza greca, della cultura greca. Questi ritratti si possono trovare, ad esempio, anche nelle monete. E' in questo periodo che si sviluppano e cominciano a diffondersi le monete, dove una delle due facce reca il volto ritratto di profilo, quindi da questo lato, del sovrano. E' un ritratto non idealizzato, ma un ritratto che rappresenta le caratteristiche principali di quello che è il volto del sovrano. Poi abbiamo visto i ritratti cosiddetti di intellettuali, perché diciamo che se ci sono personalità celebri che hanno caratterizzato la cultura greca, queste cominciano a essere rappresentate, non solo quelle viventi o quelle con cui comunque gli artisti sono venuti a contatto, pensate alla figura di Aristotele che era stato l'insegnante di Alessandro Magno, l'esippo l'aveva visto in carne ed ossa, ne crea un ritratto e questo ritratto poi viene ripetuto all'infinito. Ma anche figure del passato, vissute secoli prima, quindi di cui nessuno conosceva il volto, che però viene studiato a tavolino e ripetuto all'infinito. E abbiamo visto per esempio il caso di Omero, ok? La figura di Omero, se voi girate nei musei di tutto il mondo, vedete il ritratto di Omero sarà uguale sempre e comunque, perché viene decisa la sua fisionomia e viene ripetuta. Abbiamo detto poi che le sculture in questo periodo, non solo le sculture, anche in parte la urbanistica, l'abbiamo visto con la città di Priene, cominciano a essere caratterizzate per la volontà di teatralizzare. L'idea di teatralizzare cosa significa? Significa creare, per quanto riguarda l'urbanistica, creare l'assetto di città sempre regolare, secondo lo schema che avevamo visto a Mileto, ma creare una sorta di quintascenica, per cui città non solo in piano e tutte regolari, ma città anche in salita con un impianto scenografico, ovvero il cui punto di vista dal basso crea un effetto monumentale, un effetto teatrale. Ma questa teatralizzazione abbiamo visto che è tipica anche, per esempio, della scultura, dei gruppi statuari. Cosa significa teatralizzazione quando si parla di scultura? Significa che vengono stimolati i sentimenti, le sensazioni, viene cercato il movimento, viene cercato il pathos. Pathos significa proprio la ricerca di, significa proprio sentimento, patire, no? Significa sentire. È un sentimento a volte drammatico, come vedremo oggi, ma è a volte anche un sentimento che stuzzica i sensi, che stimola i sensi. E l'abbiamo visto nella volta scorsa, per esempio, con i gruppi statuari di quelle divinità che sono legate all'erotismo. E quindi pensate alla rappresentazione di Venere, la Venere di Milo, per esempio, no? Dove le forme morbide, la posa ondulata del corpo stimolano anche la... cioè ci danno anche la sensazione di una carica erotica che la statua poteva avere. Lo stesso vale per i gruppi statuari, per esempio, che fanno parte del tiaso dionisiaco, quindi del gruppo di persone che sono legate a Dioniso, a Bacco, al dio del vino. E potete vedere quello che abbiamo visto nella scorsa lezione. Adesso vorrei farvi vedere l'ultima parte per concludere con la teatralizzazione nella statuaria e vorrei farvi vedere alcuni gruppi di statue facendovi notare le differenze con tutto quello che abbiamo visto nelle epoche precedenti, quindi nell'epoca classica e nell'epoca arcaica. Cosa cambia, secondo voi? Beh, se vi dico teatralizzazione, scenografia, ricerca di pathos e sentimento, vedremo non più non solo delle figure possenti, perfette, regolari, le cui parole chiave sono l'armonia, la proporzione e l'equilibrio, ma cominceremo a vedere questo equilibrio che si sfalda e che crea un effetto di movimento, di agitazione e i cui volti, questa volta, sono pervasi da veri e propri sentimenti. Adesso mi faccio piccolo e vi faccio vedere la prima statua per capire quello che sto dicendo. Allora, guardate bene, questa statua si trova a Roma e fa parte di un gruppo di almeno due statue, probabilmente potevano essere di più, e è il cosiddetto Gruppo dei Galati. Sul libro troverete vari nomi, troverete Galatomachia o troverete il Donario di Attalo, adesso vi spiego di cosa si tratta. Il re Attalo era il re della città di Pergamo, il quale aveva combattuto e vinto una battaglia contro la popolazione dei Galati. E per celebrare questa vittoria decide di creare un monumento spettacolare che rappresenti, giusto appunto, la vittoria che gli Attalidi, quindi i sudditi del sovrano Attalo, la vittoria che hanno riportato sui Galati. E cosa fa rappresentare? Fa rappresentare i guerrieri Galati nel massimo del loro onore, nel momento in cui stanno morendo e muoiono giusto appunto con onore. A volte muoiono perché sono feriti, a volte muoiono perché non vogliono cadere nelle mani del nemico. E questa prima statua che vediamo è il cosiddetto Galata morente. Si tratta di una copia in marmo di primo secolo avanti Cristo di un monumento realizzato in bronzo un secolo prima, quindi nel terzo secolo, intorno al 220 avanti Cristo. Cosa vediamo? Eh beh, potete fare le differenze con tutte le statue che abbiamo visto finora. Abbiamo visto figure perfette, figure in piedi, figure possenti, che trasmettevano tutta la potenza, no, di quello che veniva rappresentato. Qui invece vediamo un uomo, un uomo solo, a terra, steso, in una posizione comunque non comoda, ferito, ferito nel momento in cui sta per morire. Vedete i capelli sono tutti scompigliati e non so se riuscite a vedere, ora ne vedremo diversi particolari, vedete che qui nel costato il guerriero è ferito e il sangue sta sgorgando dalla sua ferita. Quindi questo è il momento in cui lui è accasciato a terra perché non si regge più in piedi, le ferite sono tante, il sangue versato è tanto, le forze lo stanno abbandonando e lui sta per morire. È disteso sopra il proprio scudo e sotto di sé ha, vedete, la spada, lo scudo è questo, ora ve lo farò vedere, ha la spada e il corno col quale si suonava l'allarme. Guardate un po' altre immagini di questo Galata. Vedete lo scudo, eccolo, e questo è il corno che doveva essere suonato. Va bene? La corda che lui tiene al collo era tipica della popolazione dei Galati, quindi non è che fosse stato legato. Guardiamo ancora altri punti di vista, vedete che qui si vede meglio la ferita, si vede la posizione nel quale lui con una mano si appoggia a terra, con l'altra si tiene alla gamba, probabilmente per tenersi un'ulteriore ferita. E vedete che il volto, i capelli sono ricci e spettinati e ha dei baffi, il porta dei baffi. Vedete ancora un'altra immagine, la ferita e il collare fatto di corda. E questa è l'immagine dal dietro, dove si vede la spada, ma si vede anche la naturalezza, no? Con la quale è stata realizzata questa statua, è una statua che ci trasmette tutta la sofferenza e il senso di morte che sta per raggiungere questo guerriero. E questa è già una prima prova, no? Di quello che si diceva prima del pathos, della ricerca di sentimenti e di sentimenti di sofferenza. Però guardate nello stesso tempo la perfezione nella resa del corpo, guardate le pieghe sotto il piede, guardate i muscoli che sono tesi. La tensione del muscolo serve, no? A sottolineare l'idea di pathos e di sofferenza. E questo è l'altra statua che doveva far parte del gruppo. Ora, voi immaginatevi una base ellittica o comunque circolare sopra la quale stavano due barra tre statue, almeno, del gruppo dei Galati. Uno era il Galata morente, l'altro è questo, il cosiddetto Galata suicida. Questa è un'altra forma di rappresentare la sconfitta, no? I Galati sono stati sconfitti, sanno che diventeranno sudditi del re Attalo e decidono di non sottomettersi. Hanno perso, sono stati sconfitti e quindi, pur di non essere resi schiavi e sudditi del re Attalo, del re di Pergamo, decidono anche di togliersi la vita. Quelli che non sono morti per le ferite, come il Galata morente che abbiamo visto prima, si tolgono la vita. E qui vediamo il guerriero che ha appena ucciso la moglie e con la spada si sta trafiggendo in maniera che anche lui possa morire. E guardate bene, rispetto ai gruppi che abbiamo visto di età classica o di età arcaica, vedete che l'armonia e l'equilibrio sono portati a estreme conseguenze, no? Noi vediamo il muscolo teso di quest'uomo che regge il corpo della moglie che si sta accasciando a terra e quindi non c'è più, no, questa compostezza di forze, gioco di equilibri tra parte in riposo e parte in tensione nel corpo, ma è tutta un'enorme tensione che aumenta ancora di più il senso di sofferenza, di morte e di dolore che questo gruppo doveva trasmetterci. Però guardate ancora una volta la potenza fisica e il coraggio con il quale questo guerriero si sta ammazzando che sottolineano cosa? Sottolineano che la vittoria che Re Attalo ha conquistato contro questi nemici è stata una vittoria sofferta perché questi nemici sono valorosi e la vittoria quindi diventa ancora più importante perché un conto è sconfiggere una formica, un conto è sconfiggere un gigante potente, e allora rende la vittoria molto più forte. Vi torno, vi faccio vedere ancora altre inquadrature per farvi capire che in questo periodo è proprio il movimento, l'incrocio di queste linee diagonali e spezzate che contribuiscono a rendere il pathos. Non solo le linee ma anche questi muscoli tesi e i volti che vedete trasmettono proprio sentimenti. Vi faccio vedere proprio dalle diverse angolazioni, queste sono foto che mi sono divertito a fare quando sono andato a vedere questa statua che anche questa si trova a Roma in un museo differente rispetto a quello del Galata Morente, questo è Palazzo Altems e vedete ancora una volta la soluzione di rendere più forte questa parte del marmo con questo pezzo aggiuntivo e il collegamento tra il Galata e sua moglie che ci suggerisce, ci dà l'idea del fatto che anche questa sia una copia in marmo di un originale in bronzo. Ecco, vi vorrei porre il confronto con questa scultura che abbiamo visto proprio all'inizio dell'età arcaica. qui siamo nel frontone del tempio di Atena, Aphaia, Aegina. Vedete, questo è un guerriero morente, morente come è morente il Galata che abbiamo visto all'inizio, no? Però vedete che qui non c'è quel senso di sofferenza, addirittura è una statua di periodo arcaico quindi ha il sorriso arcaico, questo espediente, no? per sottolineare la rotondità del volto e non c'è il senso di sofferenza e di, lo ripeto ancora una volta, pathos che abbiamo visto nel Galata. Per cui ecco questo un bel confronto che si può fare per capire quanto si sia spinta avanti la scultura in età ellenistica. Vedete? Ecco la differenza tra uno e l'altro. Vorrei adesso affrontare un altro argomento nel senso che il senso di teatralizzazione e spettacolarizzazione viene portato avanti su due binari esattamente come era stato fatto quando abbiamo parlato della ritrattistica. La ritrattistica è rivolta a personaggi contemporanei, dei personaggi esistenti e di cui gli artisti sono stati testimoni esattamente come il gruppo dei Galati o il Donario di Attalo che è un gruppo, vi ripeto ancora una volta, che rappresenta guerrieri sconfitti proprio dall'esercito di Attalo, quindi una battaglia contemporanea. però si possono creare gruppi patetici anche di situazioni o del passato o che non sono avvenute. Pensate ancora una volta come nel ritratto, il ritratto di Omero che non si sa se sia un personaggio realmente esistito ma di cui si crea una fisionomia. E lo stesso lo si può fare per storie, storie a volte anche inventate. Per esempio, una delle storie inventate, sto parlando sempre di Omero, può essere quale? La guerra di Troia. La guerra di Troia che sì, è stata una guerra realmente combattuta ma per come la conosciamo noi nei testi di Omero e poi di Virgilio per quanto riguarda la letteratura latina, è una guerra totalmente inventata perché si mettono insieme scontri e alleanze tra divinità, aiuti inaspettati eccetera eccetera. E allora, se io guardo un'opera come questa, famosissima, io penso che tutti la conosciate anche se magari non ne conoscete la storia, questo è il cosiddetto gruppo di Laocoonte realizzato da tre scultori, tutti insieme, non voglio che vi ricordiate i nomi perché anch'io difficilmente me li ricordo, sono Polidoro, Agesandro e Atanodoro, scultori di Rodi. E vedremo due statue realizzate da questi tre scultori tutti insieme. Una è questa, il gruppo di Laocoonte. Vi racconto brevemente la storia perché è anche molto carina da raccontare. Siamo nel momento della guerra di Troia, penso che la conosciate. Siamo nel momento finale, il momento in cui gli Achei hanno, grazie al consiglio diabolico di Ulisse, hanno realizzato il cavallo, l'hanno messo sulla spiaggia, una parte dell'esercito si è nascosto dentro il cavallo, il resto dell'esercito ha fatto finta di fuggire con le navi. Quindi i troiani hanno visto il campo Acheo deserto, vedono questo enorme cavallo sulla spiaggia, escono fuori e cominciano a interrogarsi se questo non sia un dono divino per sottolineare la fuga degli Achei. I troiani non hanno capito che c'è un inganno sotto, che ci sono i soldati Achei nascosti all'interno del cavallo e stanno discutendo se portare in città il cavallo per rispettare la volontà degli dèi. Una voce tra tutte è quella di un sacerdote che si chiama Lau Conte che era stato maledetto in qualche maniera. Era stato maledetto perché lui riusciva a prevedere il futuro nel senso che non lo vedeva chiaramente, ma riusciva a sentire cosa si nascondeva dietro gli oggetti o come si prospettava il futuro. Arriva a corsa sulla spiaggia con i suoi figli e comincia a urlare contro quei troiani che vorrebbero portare il cavallo in città dicendo che quel cavallo sarebbe stata la rovina di Troia e di tutti i troiani. Lui ancora non sa perché, perché non riesce a vedere il futuro chiaramente, ma sa che quel cavallo rappresenta la sconfitta di Troia e quindi urla e dice dovete bruciarlo perché questo cavallo sarà la nostra maledizione e i troiani cominciano a essere un po' insicuri. Potrebbero... Lau Conte sta per convincerli se non che arriva un intervento divino. Nettuno, il dio del mare, che parteggiava per gli Achei, quindi era dalla parte degli Achei, decide di intervenire perché sa che se Lau Conte continua a parlare i troiani si faranno convincere e daranno fuoco al cavallo. E allora cosa fa? manda dei serpenti marini che escono fuori dal mare, prendono, si avvinghiano intorno a Lau Conte e i suoi figli, li trascinano in mare e li fanno affogare. È una storia tristissima ovviamente e quello che qui vediamo è proprio il momento in cui questi due serpenti marini stanno avvolgendo le loro spire intorno al corpo del sacerdote e dei suoi figli. E quindi guardate, vediamo il sacerdote al centro, nell'atto, nello sforzo di tentare di liberarsi, di alzare la testa al cielo e urlare. Ai suoi lati abbiamo i due figli, quello di sinistra, no? Quindi quello su questo lato, della sinistra di chi guarda, è ormai totalmente, vedete, abbandonato, non ce la fa più a resistere alla stretta del serpente, mentre quello di destra, della destra di chi guarda, invece sta ancora lottando, sta tentando di divincolarsi per liberarsi dalla morsa del serpente. E quindi da una... Vedete che con lo sguardo entrambi i figli guardano verso il padre. Il padre con una smorfia di dolore guarda in alto e urla. Per me questa scena è proprio tristissima. Vedete il serpente addirittura che sta mordendo il fianco di Laoconte e questa scena per me trasmette sofferenza quando guardo Laoconte per tre motivi differenti. Perché questo uomo soffre? Soffre perché lui ha intuito il futuro, non lo vede chiaramente, ma l'ha intuito. Ha parlato con i suoi concittadini e non è stato creduto. E quindi la prima sofferenza è quella di essere inascoltato, sapere la verità, ma vedere che nessuno ti crede. Seconda sofferenza, sta per morire. Lui si rende conto che questi serpenti, questi animali marini, lo trascineranno in acqua e perderà la vita per questo. Sa anche che si tratta di un intervento divino. Terza sofferenza, forse anche la più grande, non solo sta per morire lui, ma stanno per morire i suoi figli. E non c'è sofferenza più grande, penso per un genitore, che perdere i propri figli. E qui lui probabilmente sta lottando per, forse per liberare loro e lasciarsi trascinare lui. Vi faccio vedere diverse angolazioni di questa stata. Vedete il volto di sofferenza, adesso poi vi spiego anche perché manca il braccio. E vedete ancora il serpente con questo sguardo proprio cattivo mentre sta addentando il fianco di Laoconte. Vedete i muscoli tesi, anche a seconda di come sono posizionate le luci, questo chiaroscuro che si crea, contribuisce alla resa patetica. Guardate anche questo volto, tutto con lo sguardo digrignato, con lo sguardo con l'espressione sofferente, ci trasmette pienamente questa carica patetica. Lo vedete anche dall'alto, questo grido di dolore che esplode verso il cielo. Questa statua, molto probabilmente, è un originale. Gli studiosi ancora non hanno capito se si tratti di una copia o di un originale. è stata lodata e raccontata in tantissimi testi antichi. Se ne parla e si parla di quanto fossero bravi questi tre scultori nel realizzare le loro opere, una voce in particolare è uno scrittore latino che si chiama Plinio il Vecchio, il quale ha scritto un testo che si è conservato e nel Rinascimento era molto letto e questa statua era andata persa, era stata portata a Roma, dai Romani, era stata portata a Roma e poi dopo la caduta dell'Impero Romano era andata persa. Però il testo di Plinio c'era, si sapeva del racconto di questa statua che era descritta perfettamente e nel 1506, quindi addirittura oltre mille anni dopo la caduta dell'Impero Romano, solo 500 anni fa, un contadino, mentre dissodava il proprio terreno, un contadino romano, si imbatte in questa statua che era senza un braccio perché ovviamente essendo poi stata sepolta, chissà perché era stata sepolta, forse era crollata, insomma il braccio mancava. Lui chiama subito gli esperti per far vedere questa statua e i grandi, gli uomini di cultura che avevano letto tutti il testo di questo Plinio e il Vecchio riconoscono subito il laoconte creato dai tre scultori. Questa cosa, pensate siamo nel 1500, non c'era internet, non c'era il telefono, non c'erano mezzi di comunicazione, però questa notizia fa il giro di tutta Europa e da tutta Europa corrono a Roma artisti, uomini di cultura, studiosi, semplici, curiosi, per vedere la meraviglia di questa statua che viene subito comprata dal Papa e messa nelle proprie collezioni e infatti ancora oggi si trova a Roma ai musei vaticani, quindi all'interno della città del Vaticano delle proprietà del Papa e è stata famosissima. Il braccio poi è stato trovato tanti anni dopo nella bottega di un antiquario, però non è mai stato posizionato. Vedete, vi faccio vedere le linee costruttive, le avete anche sul vostro libro, sul libro ecco, fa vedere queste linee rette, per cui le tre figure corrispondono a tre linee verticali, il corpo di Lau Conte ne fa una diagonale, vedete, e poi alcuni elementi creano delle forze orizzontali. A me piace però di più vederla in questa maniera qui, dove le linee sono tutte curve e queste curve servono per aumentare il senso della tensione. Poi insomma potete divertirvi a unire anche le parti del corpo e fare più linee possibile, però ecco, questo è per dimostrare la tensione. Il terzo e ultimo gruppo, e poi mi sto dilungando anche troppo, scusate, il secondo gruppo realizzato da Agesandro, Polidoro e Atanodoro è il cosiddetto gruppo di Polifemo. Ecco, questa era in una residenza di un imperatore romano, in una grotta addirittura, nella grotta di Sperlonga, vediamo la storia di Polifemo, immagino che la sappiate, siamo sempre quindi all'interno dell'Odissea di un testo di Omero e Polifemo è il figlio di Nettuno, questo gigante con un occhio solo che cattura Ulisse e i suoi compagni per mangiarli in poche parole. Ulisse che è famoso per il fatto di essere scaltro riesce in qualche maniera a liberarsi e con un palo infuocato acceca Polifemo e lui e i suoi compagni riescono a scappare. Quello che vediamo qui è proprio il momento dell'accecamento e quindi vediamo il corpo del gigante abbandonato e addormentato, sembra un po' il fauno Barberini che abbiamo visto nella scorsa lezione abbandonato vedete questa mano accasciata e i compagni vedete il gruppo è distrutto quindi è stato in qualche maniera ricostruito i compagni che con movimenti diversi ci trasmettono nel senso della tensione del fatto che non devono svegliarlo non si devono far scoprire devono essere veloci pronti anche a scappare quindi anche le pose le vedete sono sono pose tese guardate addirittura questa foto che ci fa vedere il contrasto anche nella dimensione tra la testa di questo personaggio e la testa di Polifema addormentato torno indietro vedete ecco il personaggio è questo vedete quanto è lontano e guardate che la foto ravvicinata ci rende comunque una testa più piccola rispetto a quella del gigante e potremmo divertirci a vederlo nei suoi vari aspetti cioè scusate dai vari punti di vista dalle varie angolazioni e noteremmo tutte le volte linee diverse che si intersecano e ci danno l'idea della tensione e del vedete del dello sforzo che stanno facendo queste persone per potersi liberare e adesso vi vorrei mostrare queste mappe concettuali che poi vi caricherò tutte su su Classroom questa racconta di Laoconte quindi quelle che sono le sue caratteristiche soprattutto mi interessa questa parte qua la rappresentazione della sofferenza e dell'angoscia la storia la sappiamo e l'ultima mappa è quella che riassume vi fa vedere insieme i tre periodi che abbiamo visto della statuaria greca dell'arte greca quindi il periodo arcaico quello classico e quello ellenistico e quelle che sono le differenze nelle statue che abbiamo affrontato quindi in età arcaica ricordatevi figure molto più compatte e in qualche maniera stilizzate perché è ancora forte l'influsso della statuaria egiziana per cui ancora la geometrizzazione dei corpi e la resa stilizzata delle forme del corpo e l'espediente del sorriso arcaico che ricordatevi bene non è la rappresentazione di un sentimento ma è un espediente che serve per sottolineare il fatto che il viso è rotondo in età classica poi l'età dell'oro il momento in cui è raggiunta la perfezione nella resa dei corpi sparisce il sorriso arcaico quindi i volti sono distesi addirittura nella prima parte si parla di età classica severa proprio per questa differenza nella perdita del sorriso arcaico una proporzione equilibrio e armonia sono le tre parole che che racchiudono che servono per descrivere le sculture di questo periodo nell'età ellenistica quella che abbiamo appena finito di vedere invece una carica patetica una carica di pathos investe le rappresentazioni scultoree e come si rende questo pathos e la voglia di rendere di teatralizzare una rappresentazione attraverso il movimento quindi la sinuosità delle linee che diventano sempre più cariche gruppi statuari quindi più personaggi rappresentati contemporaneamente cui i corpi si vanno a intrecciare anche nello sforzo e la rappresentazione questa volta del sentimento sì nei volti un sentimento che questa volta è quello che deve essere la rappresentazione proprio di una sensazione interiore resa attraverso l'urlo attraverso le bocche spalancate gli occhi sgranati o gli occhi chiusi in questa tensione spero di essere stato abbastanza chiaro rimango a disposizione per qualsiasi dubbio ovviamente ci vedremo magari su WeSchool per poter parlare di tutto quello che abbiamo affrontato in queste tre lezioni alla fine delle quali vi lascio un po' di tempo per poterci riflettere poter studiare ho tagliato molto però spero di essere stato efficace vi saluto e vi auguro un buon lavoro ciao a tutti